E' solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. E' solo tu sei santo, sei meraviglioso, sei per me. E' solo tu sei santo, sei meraviglioso, sei per me. E' solo tu sei meraviglioso, sei per me. Il tema del quale parleremo oggi, che ci spiega un po' che cos'è il Sinodo. Lo condividiamo anche con i nostri telespettatori. Che cos'è il Sinodo? Il Sinodo dei Vescovi fu istituito da Papa Paolo VI il 15 settembre del 1965 in risposta al desiderio dei padri del Concilio Vaticano II per mantenere viva l'esperienza dello stesso Concilio. È l'Assemblea dei Rappresentanti dei Vescovi Cattolici che ha il compito di aiutare con i suoi consigli il Papa nel governo della Chiesa Universale e su specifiche questioni dottrinali e pastorali. Il Sinodo, infatti, come dirà Paolo VI, sarà convocato secondo i bisogni della Chiesa dal romano pontefice per sua consultazione e collaborazione quando per il bene generale della Chiesa ciò sembrerà a lui opportuno. Il primo Sinodo dei Vescovi, tenutosi nel 1967, è stato incentrato sul tema la preservazione e il rafforzamento della fede cattolica, la sua integrità, il suo vigore, il suo sviluppo, la sua coerenza dottrinale e storica. Che cosa significa la parola Sinodo? Deriva dal greco e significa letteralmente camminare insieme. Il Sinodo è infatti un luogo per l'incontro dei Vescovi tra di loro, attorno e con il Papa che lo convoca quale strumento di consultazione e collaborazione. È dunque un luogo per lo scambio di informazioni ed esperienze, per la comune ricerca di soluzioni pastorali valide universalmente. L'esperienza del Sinodo è dunque quella di camminare insieme. I credenti sono compagni di cammino, chiamati a testimoniare e ad annunciare la parola di Dio. Come funziona e come è disciplinato? Il Sinodo dei Vescovi è regolamentato dal codice di diritto canonico. La sua attività è sempre convocata, presieduta e conclusa dal Papa. Questa assemblea può riunirsi in forma generale ordinaria, generale straordinaria e speciale. Quello del 2015 sulla famiglia e quello del 2018 sui giovani si è riunito nella forma di un'assemblea generale ordinaria, che si ha quando una più stretta rappresentanza di Vescovi da tutto il mondo si riunisce all'occorrenza per discutere questioni urgenti di interesse generale. Quello sull'Amazzonia del 2019 si è riunito nella forma speciale. Al Sinodo possono partecipare solo i Vescovi? No, possono partecipare anche i laici, invitati a motivo delle proprie competenze o per altre ragioni di opportunità. Il loro ruolo all'interno del Sinodo viene in questo caso definito volta per volta. Il Sinodo può prendere decisioni operative? No, è un organo consultivo che si conclude con un elenco di proposte e riflessioni consegnate dai padri sinodali al Papa. Come si svolgono i lavori? Generalmente lo svolgimento dell'assemblea è preceduto dalla redazione da parte della Segreteria del Sinodo dei Vescovi delineamenta. Si tratta di un documento preparatorio in cui vengono delineati i temi da affrontare nell'assemblea, secondo le richieste dei Vescovi di tutto il mondo. Le successive osservazioni dei Vescovi vengono recepite in un altro documento preparatorio chiamato Instrumentum Laboris, sempre formulato a cura della Segreteria del Sinodo. Dopo lo svolgimento dell'assemblea, il Papa solitamente trae spunto dagli argomenti trattati e gli conferisce organica sistemazione, promulgando un'esortazione apostolica post-sinodale. Chi è il Segretario Generale del Sinodo? Dal 15 settembre del 2020 il Cardinale Maltese Mario Grech, Vescove Merito di Gozo e anche membro del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani. Ecco, spero nella maturazione di un vero cammino sinodale. Queste le parole del Segretario Generale. Allora, come sta procedendo, Don Salvatore, questo cammino? Il cammino, come dire, si è avviato. Si è avviato e dire come procede penso che non sia possibile a questo punto. Anche se, riprendendo proprio un'espressione del Cardinal Grech, lui diceva o la Chiesa approfitta di questa proposta di cammino sinodale oppure rischia di non essere più una Chiesa. Per dire quanto è fondamentale questa proposta del Papa, non solo di vivere un sinodo, l'ennesimo sinodo della storia a partire da Paolo VI, ma di vivere un sinodo di per sé sulla Chiesa e quindi sulla sua stessa sinodalità. È come se lo stile di questi sinodi che sono nati per, in qualche maniera, conservare lo stile e lo spirito del Vaticano II, non deve essere più soltanto lo stile di queste piccole assemblee che ogni tanto si vivono, ma deve essere lo stile permanente della Chiesa, in tutte le sue forme, anche nella sua quotidianità. Ecco, questa è la grande sfida che in questo momento stiamo vivendoci. Il Papa sta chiedendo che la comunità ecclesiale, in tutte le sue forme, in tutte le sue dimensioni, viva lo stile della sinodalità. Questo è il grande passaggio che stiamo vivendo attualmente con la proposta di questo sinodo. Tu parlavi di approfittare, quindi il sinodo può, deve essere un'opportunità. Sì, è un'opportunità dello spirito, perché se Papa Francesco sta insistendo e chi con lui, assieme a lui, stanno insistendo sul richiedere a tutta la comunità ecclesiale di fare proprio, di rafforzare, perché poi lo stile sinodale, come abbiamo scoperto studiando, è uno stile che da sempre è appartenuto alla Chiesa di per sé, cioè è nel suo stile primario proprio, fondativo, che però è uno stile che nel tempo ha conosciuto varie forme, fino ad arrivare a forme che addirittura contraddicono in verità lo stile sinodale. Oggi è il tempo di maturare, rimaturare o riscegliere, anche se con le forme nuove, lo stile sinodale, tanto che Papa Francesco è arrivato a dire che questo è quello che Dio vuole della Chiesa del Terzo Millennio, e cioè che riscopra e faccia suo lo stile sinodale. Poi ci soffermeremo anche sulle tre parole chiave di questo sinodo, comunione, partecipazione e missione, parleremo anche delle fasi. Io vorrei tornare indietro nel tempo, non di tantissimo. Domenica 15 gennaio, Papa Francesco, dopo l'Angelus in piazza San Pietro, ha annunciato una veglia ecumenica di preghiera, con la quale, ha detto, saranno affidati a Dio i lavori della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Ascoltiamo proprio quell'annuncio. Il cammino per l'unità dei cristiani e il cammino di conversione sinodale della Chiesa sono legati. Perciò colgo questa occasione per annunciare che sabato 30 settembre prossimo, in piazza San Pietro, avrà luogo una veglia ecumenica di preghiera con la quale affideremo a Dio i lavori della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Per i giovani che verranno alla veglia, ci sarà un programma speciale in tutto quel fin settimana, a cura della comunità dei Tessè. Fin d'ora invito i fratelli e le sorelle di tutte le confessioni cristiane a partecipare a questo raduno dal popolo di Dio. Ecco, è proprio per questo abbiamo chiamato Fr. Matthew della comunità di Stesea a raccontarci di questo progetto, Together. Che cos'è? Com'è nato? Qual è la sua origine, Fr. Matthew? È nato perché il nostro priore, Fr. Alois, era invitato all'apertura del Sinodo in ottobre 2021 e quando ha parlato ha raccontato un suono e ha detto Fr. Papa Francesco invitarci sempre a suonare e ha detto forse durante questo cammino sinodale abbiamo bisogno di un momento di respiro, di poter pregare insieme, non soltanto discutire, ma di pregare e poi se ci sarà anche la possibilità di coinvolgere i cristiani di diverse confessioni, sarebbe un segno forte di cammino insieme con la Chiesa Cattolica e questo proposto era accolto dal Papa e poi abbiamo parlato con il segretario del Sinodo e con il Dicastero per l'Unità dei Cristiani e è nata questa idea di preparare la preghiera ecumenica con la benedizione del Papa Francesco e dall'inizio abbiamo provato a fare questa cosa insieme con altre comunità, altri movimenti e cristiani di tutti, confessione. questo avverrà appunto il 30 settembre a Roma è stato creato anche un logo molto bello che chiedo alla regia di mostrare together, insieme appunto il popolo di Dio è un logo molto significativo perché ecco, vediamo ci può spiegare un po' il significato di questo logo fra Matthew Sì, abbiamo preso l'immagine del Sinodo il logo del Sinodo un po' semplificato per mostrare il popolo di Dio che cammina insieme e poi c'è l'immagine un'immagine di una tenda per la tappa continentale del Sinodo era questo versetto del profetto Isaia ampliare, penso in italiano ampliare lo spazio del tuo tende e poi c'è la croce per significare che la chiesa è come una tenda che si ampliare per accogliere tutti per dare la possibilità a tutti di camminare insieme Allora, fra Matthew resti ancora collegato con noi perché continueremo a parlare di questo importante momento di preghiera il 30 settembre chiedo anche ai nostri ospiti di restare con noi restituisco la linea alla regia un brevissima pausa e poi di nuovo insieme In ascolto in cammino il Sinodo 2021-2024 un'opportunità per tutto il popolo di Dio abbiamo parlato anche di questo importante evento il 30 settembre a Roma Don Salvatore immagino che come diocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo ci sarete ci saremo Sì, ci saremo io e Anna Maria Salvemini siamo appunto i referenti diocesani per il Sinodo e dunque parteciperemo a questa assemblea dove tutti i referenti delle diocesi sono invitati e il 30 pomeriggio saremo presenti a questo momento di preghiera di veglia ecumenica insieme con Papa Francesco in Piazza San Pietro poi il giorno dopo al mattino avremo i nostri lavori perché questo grande comitato nazionale composto appunto da tutti i referenti sta facendo tutto un lavoro parallelo insieme con la Conferenza Episcopale italiana perché come sappiamo oltre al Sinodo Universale l'Italia sta vivendo il suo Sinodo nazionale ecco allora a proposito di hai citato appunto Anna Maria abbiamo anche Franco che è delegato episcopale per il laicato magari molti si chiedono qual è il ruolo dei laici perché l'abbiamo ascoltato anche nella scheda il Sinodo non è rivolto esclusivamente ai Vescovi la novità di questo di questo Sinodo e credo che sia proprio quello su cui il Papa ha insistito di più quando è partito il Sinodo che è un cammino del popolo di Dio non è solo un cammino dei Vescovi non è solo un'assemblea dove prendere delle decisioni ma è un interpellare tutto il popolo di Dio e chiaramente la maggior parte del popolo di Dio è fatto dai laici e quindi sono interpellati in questo in questo cammino tutti i laici e ognuno ha il dovere diritto in questo cammino in questo cammino di questi anni di esprimere quello che è la propria visione della Chiesa Papa Francesco all'inizio ha parlato di sogno sogniamo insieme ma mettiamo insieme poi quelle soluzioni che ci possono permettere di realizzare quel sogno tutti i laici sono chiamati devono avere un'occasione durante questi anni durante questo tempo di esprimere ma non per una questione di democrazia non è che la Chiesa ha un sistema democratico è perché è lo Spirito Santo che parla attraverso la vita di tutti e in particolar modo parla attraverso la vita di chi vive nel mondo e se uno dei diciamo dei termini è quello della missionarietà se il sinodo ha come scopo anche quello di rilanciare la missionarietà non può che partire dalla visione dei laici e essere poi realizzato concretamente nel mondo dai laici un'ultima cosa quando diciamo i laici popolo di Dio non diciamo solo gli addetti ai lavori ah certo qua stiamo dicendo tutti 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 le comunità la sfida vera della comunità è tirare dentro tutti anche quelli che sono anzi e l'occasione è tirare dentro quelli che sono super critici nei confronti della chiesa delle comunità eccetera è il momento per tirare dentro tutto il popolo di Dio esatto dove per addetti ai lavori magari non solo coloro i quali frequentano la parrocchia il consiglio pastorale o eccetera anche appunto come dicevi tu persone che sono critiche Anna Maria sei stata nostra ospite tempo fa quando abbiamo parlato della prima fase del sinodo quello dell'ascolto è stato molto bello abbiamo mostrato anche delle immagini che siete stati proprio a parlare con la gente con i giovani tu mi parlavi anche di un'esperienza nelle scuole sì quella si è tenuta lo scorso anno tu sei insegnante anche sì adesso sì completamente a parte il fatto che volevo riallacciarmi a quello che diceva Franco tirano dentro in realtà tirano dentro però c'è un punto di incontro perché la chiesa è in uscita io un po' sono la dimostrazione vivente che mi hanno ritirata dentro dopo alcuni periodi insomma di crisi che penso tutti possano passare nel corso della vita quindi sono una di quelle tra virgolette fortunata ad essere di nuovo dentro e abbiamo vissuto un'esperienza del sinodo a scuola sì alcune scuole parlo di Manfredonia perché è lì che sono però anche altre colleghe l'hanno fatto ascoltando i ragazzi perché poi il primo anno era fondamentalmente quello ascoltare l'ascolto l'ascolto dei ragazzi si è rivelato un'esperienza unica e straordinaria perché ci siamo resi conto dopo il primo incontro perché non ce n'è stato solo uno che i ragazzi sentivano proprio l'esigenza di essere ascoltati a dimostrazione del fatto che probabilmente anche quello di cui sentiamo parlare in questi giorni insomma c'è poca presenza forse della famiglia e la scuola subentra quando ci sono questi vuoti queste lacune quindi c'è c'è necessità è necessario ascoltarli e l'hanno richiesto loro tant'è che poi c'è stato un secondo incontro hanno bisogno di testimonianze di fede nelle scuole dove ero io c'è stato Don Salvatore Miscio per esempio a dare testimonianza di fede anche raccontando la sua vita l'ascolto è bello per quello perché racconti la tua vita in una sorta di narrazione e scopri anche tanti lati che non conoscevi con Don Salvatore abbiamo vissuto anche esperienze televisive insieme però ecco in questo rapporto faccia a faccia con i ragazzi ha rivelato anche altre cose che non sapevamo che non sapevo personalmente quello è stato insomma quella è stata la bellezza dell'ascolto con i ragazzi perché anche poi i ragazzi si sono aperti e hanno rivelato cose che impensabili fino a quel punto quindi c'è bisogno di ascolto profondo a proposito di giovani vorrei tornare a collegarmi con Frère Matthew appunto a proposito dell'incontro del 30 settembre ci sono anche degli appuntamenti che coinvolgeranno i giovani sì 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 aspettiamo più di 4.000 giovani dall'Italia e poi dell'Europa e anche degli altri continenti che verranno per questo fine di settimana e venerdì sera saranno accolti delle parrocchie del diocese di Roma in famiglia o in sale parrocchiale e poi sabato per la mattina ci saranno dei laboratori più di 25 laboratori in diversi luoghi del centro storico di Roma e poi mezzogiorno un tempo dell'ode con i nostri partner carismatici in Basilica San Giovanni e faremo insieme un cammino da San Giovanni a San Pietro sinodo camminare insieme e le giovani sono di tutti confessione e è molto importante perché non era troppo facile coinvolgere è molto bello ascoltare Anna Maria che parla dell'esperienza nella scuola perché sinodo per i giovani non è troppo facile a capire ma dire insieme insieme together in inglese questo loro capiscono e c'è questo desiderio di fare qualcosa insieme con gli altri è molto bello anche il legame che c'è con il sinodo di questo momento di preghiera di questa veglia appunto il cammino dell'unità dei cristiani e il cammino della conversione sinodale della chiesa sono legati vorrei chiedere a Don Salvatore Miscio si parlava appunto di giovani lo stesso Feral Meteo ha detto la parola sinodo magari non è proprio come dire potremmo dire gli off topic dei giovani oggi può essere questo sinodo un punto di partenza anche c'è stato un altro sinodo proprio dedicato ai giovani però può nascere qualcosa forse ancora troppo presto però può esserci qualcosa di interessante all'orizzonte intanto mi piace richiamare il fatto che l'idea di questo attuale sinodo è nato durante il sinodo dei giovani perché quando Papa Francesco ha voluto nell'assemblea sinodale nell'assise sinodale la presenza di diversi giovani e anche un po' andando oltre il previsto li ha ascoltati più volte ha più volte dato loro la parola e si è reso conto anche soprattutto nei momenti informali nei quali i vescovi avevano modo di parlare anche mentre si aspettava un caffè con i giovani che lì si era creato una sorta di fermento allora lì Papa Francesco ha avuto l'idea di creare una condizione permanente di sinodalità appunto quotidiana come abbiamo detto un po' all'inizio per cui in fondo dobbiamo ai giovani il fatto che in qualche maniera si sia evoluta in questa maniera l'idea di Papa Francesco e anche la proposta fatta a tutta la Chiesa universale se questo possa diventare un'occasione per i giovani io ne sono convinto convinto soprattutto perché l'idea della sinodalità mette le basi per una partecipazione di tutti e quindi i giovani meno di altri sono disposti ancora a stare dentro una struttura che vede ancora pochi a decidere addirittura pochi che debbano pensare e tutti gli altri che debbano aggregarsi così quasi in maniera supina cioè senza un pensiero critico riflessivo senza una partecipazione vera e non solo penso che sia un'occasione grande per i giovani ma che se come Chiesa vogliamo davvero arrivare fino in fondo al cammino sinodale dobbiamo metterci in ascolto dei giovani in questo momento in modo particolare appunto ci ricolleghiamo a quello che giustamente diceva Anna Maria possiamo dire nel suo ruolo di componente dell'equipe diocesana ma anche e soprattutto di insegnante perché immagino che tu non ti sia dedicata a loro solo nel momento in cui dovevi diciamo compiere il tuo servizio di componente appunto diocesana ma lo fai ogni giorno sì diciamo che col senno di poi ho capito che forse sono più utile a scuola perché mi sento utile molto a scuola perché si è creato un rapporto con i ragazzi che poi in ogni classe sono diversi ce ne sono tanti ognuno ha la sua storia e mi sento utile ecco diciamo così mi sento utile molto utile i ragazzi hanno bisogno l'hanno richiesto e quello è un campanello d'allarme però è sotto gli occhi di tutti insomma c'è una carenza di affettività di attenzione nei loro confronti ognuno è preso dalle proprie cose si va sempre tutti di corsa tutti di fretta siamo chiamate a camminare insieme sono tre anni che cammino non ho perso un grammo però tre anni di sinodo diciamo che è l'unica cosa a cui non fa bene non ci sono risultati evidenti però questo camminare insieme mi piace tantissimo mi ci rivedo e tra i tanti ruoli che si possono avere nella chiesa forse è quello che mi si addice di più insomma lo dico però perché ho fatto esperienza quindi ogni tanto tiro le somme dico cosa sto facendo dovremmo farlo tutti stiamo facendo bene cosa stiamo facendo soprattutto per il prossimo per l'altro lo dicevo prima mi sento anche fortunata perché comunque sono stata di nuovo tirata dentro e questa cosa insomma deve essere deve essere un'occasione per tutti che tutti dovrebbero avere e dovrebbero cogliere molto bello quello che dice Anna Maria frermetiu ci puoi dedicare ancora qualche minuto? sì sì certo bene vedevo che mentre Anna Maria parlavi a Nuivi vuoi aggiungere qualcosa in 30 secondi? no ma voglio soprattutto invitare tutti a venire in piazza San Pietro saranno anche 12 capi di chiese diversi patriaco Bartolomeo di Costantinopoli dell'arcivesco Justin Welby di Cantobori e diverse chiese sarà un momento importantissimo nella vita del popolo di Dio la piazza sarà aperta a tutti non c'è bisogno di biglietti venite numerose in piazza inizierà alle 17 ma sarà aperto dalle 15 sabato 30 settembre e per quello che non possono venire sarà una trasmissione attraverso dei Vatican Media bene allora vi seguiremo in diretta frermetio ricordiamo che c'è anche un sito internet together 2023 punto net grazie per essere stato con noi e buon cammino a lei e alla comunità di tesoro grazie a voi grazie a tutti grazie ancora frermetio allora noi ci fermiamo ancora qualche istante poi torneremo insieme e sono stati tanti discorsi in cui Papa Francesco ha fatto esplicito riferimento al processo sinodale vogliamo ascoltare un passaggio del discorso di Papa Francesco era il 9 ottobre del 2021 in cui parla proprio delle tre parole chiave del sinodo io oggi oggi aprendo questo percorso sinodale iniziamo con il chiederci tutti Papa Vescovi sacerdote religiose religiose sorelle fratelli laici noi comunità cristiana incarniamo lo stile di Dio che cammina nella storia e condivide le vicende dell'umanità siamo disposti all'avventura del cammino o timorossi delle incogniti preferiamo rifugiarci nelle scuse del non serve o del si è sempre fatto così fare sinodo significa camminare sulla stessa strada camminare insieme incontrare i volti incronciare gli sguardi condividere la storia di ciascuno ecco la vicinanza di Gesù egli sa che un incontro può cambiare la vita e il Vangelo e il costellato di incontri con Cristo risollevano e guariscono Gesù non andava in fretta non guardava l'orologio per finire pronto un incontro era sempre al servizio della persona che incontrava per ascoltarla anche noi che iniziamo questo cammino siamo chiamati a diventare esperti nell'arte dell'incontro non nell'organizzazione non nell'organizzare eventi o nel fare una riflessione teorica sui problemi ma anzitutto di prendersi un tempo per incontrare il Signore e favorire l'incontro tra di noi un tempo per dare spazio alla preghiera alla adorazione questa preghiera che noi trascuriamo tanto adorare dare spazio all'adorazione a quello che lo Spirito vuol dire alla Chiesa per rivolgerci al volto e alla parola dell'altro incontrarci a tu per tu lasciarsi toccare dalle domande delle sorelle e dei fratelli aiutarci affinché la diversità dei carismi vocazioni e ministeri ci arricchisca ogni incontro lo sappiamo richiede apertura coraggio disponibilità lasciarsi interpellare dal volto e dalla storia dell'altro ma queste le parole di Papa Francesco proprio durante la celebrazione dell'Eucarestia per l'apertura del Sinodo molto bello Don Salvatore quello che ha detto ma mi rivolgo anche a Franco e Anna Maria il Papa ha detto Gesù non aveva fretta non guardava l'orologio e poi ha parlato anche del camminare insieme della bellezza di incontrare i volti e di incontrare il prossimo Sinodo è questo sì Sinodo è l'arte dell'incontro dice Papa Francesco parla di arte dell'incontro e io parafraserei le sue parole dicendo è l'arte della cura perché si vede che Gesù è capace di una vera cura perché si accorge davvero delle persone che incontra pur non perdendo il contatto con la realtà il contatto con la folla che si stringe intorno il contatto con le tante richieste che sono nell'aria perché la folla significa sempre tante richieste però è capace anche di ascoltare poi direttamente chi gli si avvicina o addirittura di accorgersi come nell'episodio ricorderete della donna Moroissa che lo tocca improvvisamente e improvvisamente avverte questa forza che esce da lui anche accorgersi della forza che esce da te è il senso del Sinodo il Sinodo significa mettere a disposizione la forza l'uno per l'altro ma che diventa veramente dono non che diventa potere che diventa occasione di incontro che diventa occasione di attivare l'altro infatti Gesù alla fine di quell'incontro bello dove la donna guarisce ma ruba di fatto la forza la forza taumaturgica in questo caso di Gesù la ruba la sottrae così di nascosto e Gesù non rimane non ha bisogno di rimarcare la sua potenza non ha bisogno di sottomettere la donna o di creare dipendenza a quella donna ma piuttosto di attivare il suo protagonismo quindi ecco le parole comunione partecipazione e missione si conservano dentro questo episodio infatti Gesù dice alla donna la tua fede ti ha salvata quasi ad attivare la sua risposta personale di questa donna Franco Don Salvatore parlava di forza di dono che in qualche modo acquisiamo dall'altro tu hai avuto questa sensazione in questo cammino che stai facendo come laico io sto facendo una bellissima esperienza perché come diocesi stiamo chiaramente innestando un po' il piano pastorale diocesano si è innestato sul sinodo e quelli che erano i cosiddetti cantieri del sinodo cioè i campi concreti su cui misurarsi sono diventate delle sfide nel piano pastorale e mi è stata affidata una sfida particolare che è quella della cittadinanza responsabile e mi sta dando la possibilità le sfide girano ogni anno una vicaria ad una vicaria viene affidata una sfida e io sto girando le vicarie con questa sfida sulla cittadinanza responsabile devo dire che la bellezza è incontrare quelli che non sono vicino normalmente alla chiesa e che parlano della vita per chi come me è vissuto in comunità da quando non ricordo perché mi ci ha portato mia madre quando mi ha battezzato e ci sono ancora da sempre il rischio è di di fermarsi alle frasi standardizzate a quello che si è sempre fatto è ascoltare la freschezza che a volte viene anche dalla sofferenza di chi è ai margini della comunità e a volte spesso perché anche è ai margini della società ti da ti riporta alle radici ti riporta all'essenziale della fede quindi come al solito quando c'hai un compito in questi cammini anche un compito ufficiale è più quello che ricevi in realtà che quello che dai noi siamo dei facilitatori come ama dire Don Salvatore non più di questo ma sicuramente riceviamo molto nell'incontro con la gente perché ci parlano e parliamo insieme di quello che ci racconta la vita se mi è permesso un'altra icona di questo sinodo è sicuramente quello dei discepoli di Emmaus i due camminano da soli prima poi arriva Gesù e illumina la loro vita credo che questo sia il come dire il senso di questo sinodo forse ci sentiamo un po' tutti a un certo punto che ci siamo allontanati e abbiamo come dire abbiamo avuto la sensazione di camminare da solo è il momento di farci di rincontrare ancora una volta Gesù sulla strada quindi significa insieme agli altri sulla strada quindi come dicevi tu anche andare ai margini ritornare all'essenzialità della fede mi è piaciuta molto questa frase che hai utilizzato i margini ti portano a scoprire a mettere da parte il superfluo superfluo nella nostra vita superfluo nella nostra esperienza di fede superfluo nell'esperienza di fede della comunità e ti porta ad andare all'essenziale l'essenziale è Cristo e quando tu incontri gli altri in questo caso incontri Cristo al prendersi cura come diceva anche Don Salvatore quindi come dire non sono situazioni che stanno lì non parliamo giusto per parlare c'è qualcosa di concreto dietro a tutto questo magari chi ci sta seguendo e non conosce questi termini di sinodo sinodalità pensa che stiamo parlando come dire di teorie invece c'è molta pratica in tutto questo Don Salvatore sì di fatto è questo è la prima volta che il sinodo non ha un tema i giovani la famiglia per quanto fondamentali ci mancherebbe l'evangelizzazione quell'ultimo fatto da Benedetto XVI che poi è stato in qualche maniera restituito in quella esortazione post-sinodale che è l'Evangelii Gaudium però non abbiamo un tema qui abbiamo la Chiesa che riflette su se stessa che si riflette sul suo stile sulla sua fedeltà al Vangelo e alla storia e quindi di conseguenza dobbiamo parlare di cose molto concrete molto pratiche perché è la vita che ci interpella e l'altro diventa uno che mi interpella non uno da aggregare dentro i miei piani pastorali continuiamo a far parlare Papa Francesco con il prossimo contributo che arriva dalla regia appunto parliamo di alcuni stralci dei discorsi in cui Papa Francesco fa appunto proprio riferimento al sinodo le parole chiave del sinodo sono tre comunione partecipazione e missione comunione e missione sono espressioni teologiche che designano il mistero della Chiesa e di cui è bene fare memoria il concilio Vaticano II ha chiarito che la comunione esprime la natura stessa della Chiesa e allo stesso tempo ha affermato che la Chiesa ha ricevuto la missione di annunciare e instaurare in tutte le genti il regno di Cristo e di Dio e di questo il regno costituisce in terra il germe e l'inizio due parole attraverso cui la Chiesa contempla e imita la vita della Santissima Trinità mistero di comunione a destra e sorgente di missione a destra ad intra dopo un tempo di riflessione dottrinale teologiche e pastorali che caratterizzarono la recessione del Vaticano II San Paolo II volle condensare proprio in queste due parole comunione e missione le linee maestre enunciate dal concilio commemorando nell'apertura affermò infatti che le linee generali erano state la comunione cioè la coesione e la pienezza interiore nella grazia nella verità nella collaborazione e la missione cioè l'impegno apostolico verso il mondo contemporaneo che non è proselitismo chiudendo chiudendo il sinodo dell'85 a vent'anni della conclusione della sisse conciliare anche San Giovanni Paolo II volle ribadire che la natura della Chiesa è la coinonia da essa scaturisce la missione di essere segno di intima unione della famiglia umana con Dio e aggiungeva conviene sommamente che nella Chiesa si celebrino sino di ordinari e all'occorrenza anche straordinari i quali per portare frutto devono essere ben preparati occorre cioè che nelle Chiese locali si lavori alla loro preparazione con partecipazione di tutti ecco il Papa Francesco ha sottolineato la partecipazione di tutti appunto nella preparazione i nostri restate con noi non scappate dovete partecipare quindi abbiamo un ultimo stacco da fare e poi torneremo insieme restate con noi e nelle parole del Papa abbiamo ascoltato le tre le tre chiavi le tre parole chiavi di questo sinodo comunione partecipazione e missione ma Don Salvatore abbiamo anche le fasi del sinodo siamo nella fase sapienziale preceduta da quella narrativa andiamo verso quella progettuale profetica che è quella più complicata più difficile diciamo di per sé sono tre fasi che in verità devono come dire devono conservarsi sempre contemporanee perché la prima fase che è quella narrativa che come dire in qualche maniera soprattutto punta molto sull'ascolto dove si riattiva questa capacità della comunità ecclesiale di essere soprattutto fatta di uomini e donne che ascolta o che ascoltano tutti capaci di ascoltare in modo particolare non solo tutti ma di mettere tutti nelle condizioni di intervenire e non solo poi nel momento in cui si fa sintesi anche dell'ascolto di tener conto non solo di quello che emerge come una voce comune ma anche delle voci dissonanti queste sono le caratteristiche dell'ascolto poi c'è la fase sapienziale che è la fase dove la parola diciamo più forte è quella del discernimento cioè dove in qualche maniera alla luce di quello che lo spirito ci dice attraverso la parola di Dio in modo particolare rileggiamo quello che nella fase narrativa è emerso per comprendere se ci sono dei segni dei tempi in modo particolare attraverso i quali lo spirito quasi ci indica la strada strada sempre da fare tutti insieme fino ad arrivare poi anche con l'aiuto dell'ascolto della teologia del magistero quindi di quella riflessione anche più posata più pacata che ci dona altri strumenti non che sostituisce il discernimento ma che ci dona degli strumenti perché il discernimento giunga in qualche maniera a creare una sorta di decisione di programmazione di progettualità e soprattutto che sia capace di indicare quello che di per sé non emerge dal semplice ascolto perché l'ascolto può essere anche di racconto della realtà ma dentro la realtà dobbiamo leggere anche gli spiragli di quel dopo di quell'oltre che la realtà stessa ci chiede che lo spirito stesso ci chiede ecco perché diventa una fase anche profetica perché dobbiamo essere capaci di accogliere la realtà che viene e di cogliere in essa i segni diciamo di quello che il Signore ci sta chiedendo continuiamo a dare voce alle parole di Papa Francesco proprio con un altro contributo dalla regia cari fratelli e sorelle il 10 ottobre dell'anno scorso si è aperta la prima fase della sedicesima assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema per una chiesa sinodale comunione partecipazione e missione da allora si sta svolgendo nelle chiese particolari la prima fase del Sinodo con l'ascolto e il discernimento i frutti del processo sinodale avviato sono molti ma perché giungano a piena maturazione è necessario non avere fretta pertanto allo scopo di disporre di un tempo di discernimento più distesso ho stabilito che questa assemblea sinodale si svolgerà in due sessioni la prima dal 4 al 29 ottobre del 23 e la seconda nell'ottobre del 24 confido che questa decisione possa favorire la comprensione della sinodalità come dimensione costitutiva della chiesa e aiutare tutti a viverla in un cammino di fratelli e sorelle che testimoniano la gioia del Vangelo ecco questo era il 16 ottobre del 2022 appunto al termine dell'Angelus Papa Francesco parla dei frutti del cammino sinodale che hanno bisogno di maturazione e fa riferimento appunto al 10 ottobre del 2021 prima fase del sinodo quella dedicata all'ascolto e al discernimento come dicevamo prima con Don Salvatore Miscio queste due fasi questo prolungamento perché inizialmente era il 2021-2023 poi è stato aggiunto anche il 2024 giusto Don Salvatore come lo leggi? Sì beh il Papa si è reso conto anche assieme a tutta la segreteria del sinodo che quanto stava emergendo era veramente abbondante frutti abbondanti dello spirito quindi anche tante questioni che a loro volta ne aprivano delle altre quindi anche dal punto di vista dei contenuti anche dal punto di vista delle idee della riflessione il sinodo davvero è in itinere quindi non si tratta solo di uno stile di un modo di fare di ascoltarci ma si tratta anche di assecondare lo spirito che probabilmente dischiude come una sorta di gioco di matriosche questioni dentro le questioni e quindi la storia ha bisogno di un atteggiamento permanente di sinodo quindi anche dal punto di vista dell'attenzione alle questioni che emergono dobbiamo imparare a diventare una chiesa che contempla la storia la contempla nel senso che la guarda con l'occhio dello spirito e quindi che si lascia anche guidare che si lascia interpellare da quello che accade che accoglie con meraviglia anche quello che avviene nella vita perché l'idea invece di una programmazione dove definiamo in anticipo quanto andremo a fare rischia di non accorgerci della realtà è un po' Papa Francesco ama molto una parola che ultimamente ho visto anche ripresa nella riflessione filosofica per esempio da Galimberti il viandante Umberto Galimberti in un'opera pubblicata proprio qualche giorno fa parla dell'etica del viandante e dice che il viandante è colui che si predispone ad accogliere quello che accade lungo la via non è colui che ha già prefissato un viaggio a una sua meta e quello che succede lungo la via non serve granché anzi rischia solo di essere un ostacolo al raggiungimento della meta il viandante invece è colui che vive lungo la strada e vive di quello che accade lungo la strada ecco il cristiano deve recuperare probabilmente noi tutti la chiesa lo stile del viandante e infatti Papa Francesco anche in Christus Vivit ama parlare per esempio dei giovani della fede dei giovani come dei viandanti della fede è molto bello quello che dicevi il viandante che si accorge di quello che accade mentre è sulla strada quindi questo potrebbe anche essere un po' quello che faranno i laici Anna Maria Franco voi vi state accorgendo di quello che accade nella strada mentre siete in cammino in questo impegno ne abbiamo la fortuna di avere un vescovo padre Franco vescovo di Manfredoni Veste San Giovanni Rotondo che ci sollecita continuamente a guardare la strada la storia di stare nella storia nell'ultima nota pastorale che è in uscita per questo anno pastorale il vescovo fa un'affermazione che sinodo significa non essere neutrali rispetto a quello che avviene nella storia e quindi non essere neutrali rispetto alla pace non essere neutrali rispetto ai problemi dell'ambiente non essere neutrali rispetto a quello che accade sul lavoro e le morti di questi giorni di cui ci stanno dando conto i mezzi di comunicazione ci dicono come il lavoro a volte può essere fonte di dramma anche quando c'è non solo quando non c'è essere partecipi della vita della città è non essere neutrali è come dire esserci prima di tutto esserci e quindi contemplare la storia non è starla a guardare certo è scendere in campo e la vera sfida è quella quando dicevo che poi alla fine tutto si misurerà sulla capacità della comunità dei laici di stare nella storia altrimenti avremo fatto un esercizio di di cosa non so ma non un esercizio utile e poi padre Franco è stato anche profetico a questo proposito poco prima del sinodo se non quasi in contemporanea diede queste sfide alla diocesi alla sua comunità cinque sfide che toccano cinque ambiti della vita della comunità della vita di tutti e il sinodo non fa che chiederti insomma di perlustrare tutte le zone anche noi qua stiamo facendo una sorta di sinodo siamo in un luogo di dialogo siamo insieme ognuno dice quello che pensa nessuno giudica è quello che siamo chiamati a fare anche prossimamente con le conversazioni spirituali che è anche una novità diciamo se vogliamo è vero Don? sì quest'anno il vescovo ci ha chiesto questo in diocesi di attivare il più possibile conversazione nello spirito che è una delle cose emerse nel cammino sinodale in modo particolare in quello italiano soprattutto nella prima fase noi abbiamo scelto il vescovo ha scelto di viverle come strategia in questa seconda fase creando la possibilità per tutti di poter conversare confrontarsi però illuminati ecco da una parola che in modo particolare ci offre un punto luce particolare e convergere su alcune questioni che riguardano la vita della comunità e la vita appunto della storia che stiamo vivendo in questo nostro territorio garganico ascoltare la parola e ascoltarsi molto la fase sapienziale la fase sapienziale ottimo grazie per tutto quello che ci avete regalato oggi grazie per le vostre parole io vorrei concludere proprio con un minuto perché abbiamo una battuta di il vescovo di Rimini Monsignor Nicolò Anselmi che è stato il pellegrino a San Giovanni Rotonda abbiamo approfittato anche per chiedergli una battuta appunto proprio sul sinodo ascoltiamolo e comincerà appunto il 4 ottobre nel giorno di San Francesco io mi aspetto che la Chiesa diciamo così i vescovi insomma tutti noi con loro nel Santo Padre affronti con coraggio questo tempo di discernimento di riflessione insieme che poi dopo non può che condurci a una sempre più rinnovata unità con il Signore Gesù con il suo Vangelo con il suo mistero di morte e resurrezione che è l'unica vera grande ricchezza che abbiamo e poi ritrovi come più volte ci ha chiesto il Papa un rinnovato slancio di annuncio perché la bellezza del seguire il Signore mi ha setato tutto a modo coraggio unità a slancio vi consigliamo queste parole magari anche come spunto grazie per le parole che voi avete consegnato a noi vi auguriamo un buon cammino grazie a Don Salvatore Miscio grazie a Franco Ciuffrede grazie ad Anna Maria Salvemini per essere stati con noi quando volete gli studi sono sempre aperti io voglio salutare tutti i miei fan quelli che mi scrivono anche adesso che hanno visto salvo imprevisti potremmo ritornare salvo imprevisti è sempre sul nostro canale YouTube quindi vogliono rivedere nelle teche di Padre Pio TV grazie davvero di cuore per essere stati con noi grazie ai nostri amici telespettatori continuate perché la programmazione di Padre Pio TV prosegue e solo tu sei santo sei meraviglioso degno e glorioso sei per me grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti